Il sindaco di Palermo, Leluca Orlando, non ci sta, è arrabbiato e non potrebbe essere altrimenti per la bocciatura prematura del capologo siciliano come capitale europea della cultura, prendendosela con coloro che godono della sconfitta. Analfabeti e incivili, definisce Orlando, il primo cittadino palermitano, giudica ingiustificabile che una città piena di cultura, tradizione, folclore, bellezze paesaggistiche e monumentali come Palermo, sia stata scartata a favore di altre città italiane. Ancora in corsa come capitale europea della cultura, come Lecce, conosciuta per il suo centro storico barocco, o Matera, per le sue pietre particolari. L'amarezza e la rabbia del sindaco sono comprensibili, forse però è fuori luogo la sua presa di posizione con la gente palermitana che non ha a suo dire capito l'importanza di un riconoscimento così prestigioso. Palermo è piena di ricchezze, frutto di tante dominazioni passate, spagnole, arabe e normanne, che ancora ora sono punti di attrattiva per i turisti, ma presenta anche tante problematiche relative all'invidibilità dettata dal traffico cittadino, da servizi insufficienti, organizzazione e igiene pubblica. L'immondizia dissaminata per le vie della città non hanno rappresentato per Palermo un valido biglietto da visita per entrare a far parte della selezione per la capitale europea della cultura. I suoi tesori architettonici sono deturpati o nascosti dall'invasione dei impianti pubblicitari non possono essere ammirati nel loro intero splendore dai turisti. Le scuole sono quotidiano bersaglio di teppisti, l'edilizia scolastica lascia molto a desiderare, talvolta fonte di preoccupazione per il fattore rischio-crolli. Il verde pubblico è mal curato e spesso ricettacolo di immondizie. Con questa credenziale la bocciatura di Palermo come capitale europea della cultura è apparsa ai più ovvia ma difficile da accettare. Se poi aggiungiamo che lo scrittore Andrea Camilleri, padre del commissario Montalbano, abbia scelto di fare il testimone all'Audo Urbino e non al capologo siciliano, allora tutto appare più chiaro.